Ricordati di parlare del like tattico per il prossimo Cristoppoli Hai ragione Daniele, hai ragione E lo faremo adesso Perché se voi non lasciate un like tattico a questo video Dendrank si incazza Perché deve andare in un altro video A prendere un like tattico Quindi mettete like tattico perché io in questa busta Troverò una leggendaria Visto che non ho trovato la leggendaria motivo in più per metterlo Bene Direi che è venuto abbastanza bene Volete sabbare al canale, volete avere le motte Il gruppo Telegram, la richiesta d'amicizia Su Battlenet, giocare magari un po' a World of Warcraft A Heroes of the Storm o ad Hearthstone Eccetera, dovete abbonarvi Con Amazon Prime è completamente gratuito Quindi se volete guardare una cosa Subbare in modo completamente gratis Potete farlo come l'hanno fatto in molti E potete per appunto essere sub Ringrazio anticipatamente tutti quelli che lo fanno E ho anche tutti quelli che magari si vogliono abbonare Senza Amazon Prime con altro Vi ricordo che per farlo basta andare in alto In alto abbonati, abbonati senza costi gratuiti E sei sub in pochi secondi Ah, aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Ho capito Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho GITO, che l'ho capita Parca puttana, lo so che mi state insultando zitti L'ho capita Bravissimo 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 Io mi gaso quando faccio giusto Perché mi immagino il mio avversario che Veda che io faccio sta lì Quando chiaramente Allora L'unica carta che ha Statistiche, quindi salute, variabile Come tappa Sono io il coglione che ci credo Sono io il coglione che ci credo Allora Oh, se parla ancora io giuro Che chiamo la Blizzard in live Come funzioni, raga? Io non la capisco, Valira Io mi... è difficile per me Eh, non ho visto Frack Vabbè, ho sbagliato Ho sbagliato tanti Ringraziamo il Charlie Mentre ringrazio il Charlie Parte invece il sub di Sigamel Che ne ha giftati 14 14 Parco di S14 i sub Penso che sia quasi il record Tira fuori Tisca Tusca tira fuori la busta Bella amico mio Mi piace Tisca Tusca Tira fuori la busta Tisca Chi è che lo diceva? Topolino No, dai, madonna di Cristo Maldito Sacchetto di vitello tonnato A spasso coi sandali A dorso di mulo Guarda quanta gente Che se ne va a fanculo Sereno Sereno e non curante Del tempo che farà Guarda quanta gente Che a fanculo Se ne va Allora se faccio Pairo Crazy Knight Ha scritto Mo pesca il 69 Pensa che culo Come scusa amico mio Come amico mio Cosa dici? Come? Ma come non posso Henry, madonna Che persona terribile Che sei E' un po' 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 bella giocata amico mio bella giocata bella giocata perché io vedo gente come dog che apre un pacco trova tre leggendari in un pacco e io che cazzo questa è il barco e cristian maledetto di maremma puttana a f***lo va a uno o rolla bene quindi rolla bene con hero power folletto hero power che hitta faccia oppure muore quella zombista qui vale la pena di calzare si si vole si cazzo ma forco dia secondo va bene buo amico mio devi rollare il tuo il 33 per cento più forte della sua vita o non facciamo puttanate adesso vado a registrare il video per appunto di amazon che per appunto necessario per amazon perché lo vogliono e oz lo facciamo subito dopo di portozio al posto di porco no amico mio porco porto zio porto allora voi immaginatevi di dover adesso no parliamo un attimo immaginatevi di di sclerare e dire porto zio invece di lo porto io ma vuoi mettere quanto mi sfogo amico mio con una bestemmia rispetto che ha porto zio che vuoi mettere amico mio c'è 10 volte la soddisfazione e poi più guarda sto cazzo di telefono più mi sale il nevoso madonna di cristo maledetto sono spacco perché vabbè quindi signori dai parliamo delle nuove carte che ogni tanto mi partirà il matto non devo fare live stasera non devo fare lui lo uccidiamo lui prima che diventi un problema chiaramente guarda amico mio scartami quello che vuoi tranne l'animario cosa c'è in alla morte che ti attrae tanto era una natabile niente nulla c'è niente ma nulla c'è io c'ho il tubazzetto niente questo è carino questo è caruccio amico mio guardalo che bello che è è caruccio ma non c'è nulla che mi attrae in definito il problema è che è l'emoto del mio canale ma non credo ci posso far girare la testa o è stato decapitato o ci giro la testa che bello e niente amico mio non mi piace non mi piace il coso non mi piace più che è l'emoto del mio canale perché chi mi segua tanto tempo se vuole spiegare perché lo faccia è una storia lunga amico mio molto lunga voi non siete normali ragazzi voi no 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 è stato decapitato o ci giro la testa che bello e niente amico mio è stato decapitato o ci giro la testa che bello e niente amico mio non mi piace non mi piace il coso non mi piace più che è l'emoto del mio canale perché chi mi segua tanto tempo se vuole spiegare il perché lo faccia è una storia lunga amico mio molto lunga voi non siete normali ragazzi voi no 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 non rende tanto con gli allerti sottofondo vero non rende tanto non rende tanto grazie 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 Fanculo, chiunque abbia adorato beat Scherzi ragazzi Manuel e Carlo Grazie mille per il supporto Quando dico che non dovevate È la verità Non dovevate Non dovevate Non dovevate Ma va bene Grazie mille per aver giftato Quasi 20 sub a testa anche stasera Siete dei pazzi criminali E grazie mille Grazie mille Mille Oggi mi ha scritto Viking Dicendo Poli ma che cazzo sta succedendo Nel tuo canale Me l'hanno segnalato addirittura Vi rendete conto Che si Hanno segnalato che il mio canale Non è normale Che stia facendo questo Invece Invece Che stia facendo il mio canale